C'è una strategia di cui abbiamo parlato tempo fa che, bababam, sta andando benissimo anche quest'anno, è la strategia Sally May and Go Away, ve ne ho parlato un po' di tempo fa, ho fatto un video dove spiegavo tutta questa strategia, chi non l'ha visto ragazzi sopra la mia testa andatelo a trovare, anzi facciamo così, ve lo lascio in descrizione e questo è un video aggiornamento per verificare effettivamente quella tipologia di strategia che in un contesto del genere, soprattutto vicino alla scadenza del mese di settembre, assume molto rilievo perché ancora una volta potrebbe essere utilizzato proprio in concomitanza con la chiusura del mese di novembre perché quella strategia scatta a ottobre e può indicare anche l'inizio di una fase nuova di bitcoin dopo questi sei mesi di nulla facenza. Intanto, dal video di lunedì che vi ho pubblicato, il mercato bitcoin ha esattamente preso, lasciato come era da, insomma, pattern di cui ho parlato proprio nel video di lunedì, ragazzi andatelo a vedere ed è arrivato intorno alla media mobile quella mensile, in questo caso sui 12 mesi e si è appoggiato lì. Non è detto neanche che questo movimento ribassista sia terminato in questo modo, era semplicemente l'atteggiamento più comune che un mercato ha, soprattutto le criptovalute, e soprattutto bitcoin hanno in un contesto del genere da un punto di vista di pattern di price action mensile. Ora, la questione è che la strategia Selly May and Go Away è uscita su questa candela, che è la candela di maggio e in pratica dovrebbe rientrare proprio all'opening della successiva candela di ottobre, quando aprirà. Andiamola a vedere, andiamo a vedere un po' che cosa sta facendo negli ultimi periodi, funziona alla grande, vi do un po' di chicche, ragazzi. Allora, la Selly May and Go Away è una strategia che è molto semplice, banale, ma le strategie di natura banali e semplici sono, almeno nel lungo periodo, a volte estremamente forti, estremamente potenti. Non vi aspettate che le strategie di trading debbano essere compleste, estremamente elaborate. Tutt'altro, non è assolutamente così. Più sono semplici, più sono banali, più sono robuste e significative. Ciò significa che funzioneranno per tanto tempo e probabilmente continueranno a funzionare anche con il modifica del mercato, quando il mercato appunto modificherà i propri atteggiamenti. Ed è il motivo per il quale una strategia Selly May and Go Away, che è vecchissima, ragazzi, più vecchia di me, in pratica continua a funzionare anche adesso su alcune tipologie di mercato, in particolare quelli che ripto funzionano alla grande, era oltre l'8900% di rendimento dalla nascita di Bitcoin, per questa strategia pazzesca, è una strategia che prevede semplicemente di aprire una posizione long il primo di ottobre e chiuderla il primo di maggio dell'anno successivo. E così via ad Libiton. Quindi un trade solo open and close in un anno, una sola operazione in un anno. Strategia potentissima che ha performato anche abbastanza bene. Andiamola a rivedere, vediamo dove siamo arrivati anche con questa strategia. Se in effetti nel mese di ottobre, cioè fra circa una 25 giorni, sarà il caso di utilizzarlo magari nuovamente, perché no? proprio in un contesto del genere. E queste sono candele di natura mensile, quello che vedete è tra l'altro un semplice super trend, ragazzi, niente di che. Un super trend applicato classico che divide in sostanza, in maniera estremamente troppo, diciamo, variabile, i bear market da il bull market, indicando appunto che qui Bitcoin è entrato in bull market, ma non è operativo, è questo super trend, ragazzi, è solo a livello visivo, non si può utilizzare, anzi lo togliamo così non vi imbrogliate. Qui invece andiamo ad inserire la media mobile a 12 mesi, che è quella importante, perché è la media mobile che sorregge i cicli annuali e soprattutto sorregge i bull market di Bitcoin. Allora, vi ho preparato, come anche l'altra volta, quello che è la strategia in editor di Pine, quindi qui è la strategia Selling May and Go Away di Pine e qui vediamo un po' le caratteristiche, in sostanza, di questa strategia, tutto quello che sta replicando. E possiamo andare, in sostanza, a quello che vedete, in questo caso, ragazzi, non è una strategia con i risultati, bensì soltanto un mezzo, un indicatore che segnava le fasi per andarle a comprendere. In realtà, io poi ho backtestato questa strategia sulla mia piattaforma di Multicharts, non uso TradingView per queste cose, ottenendo appunto i risultati di cui vi ho già parlato nel video precedente. In sostanza, nelle ultime volte, le ultime volte, anzi facciamo così, vi pubblico anche il grafico di Multicharts. Ecco, ragazzi, allora, questo il grafico di Multicharts con l'aggiornamento per quanto riguarda anche questa strategia. Vi ho pubblicato questa perché è un po' più visibile in quanto si vedono proprio i dati del punto di ingresso al punto di vendita, comprese le linee che indicano profitto o perdita. e l'ultima volta appunto ha fatto un'operazione in questo nuovo ciclo estremamente importante, tant'è vero che ha guadagnato il 50% dal mese di ottobre del 2022 fino a maggio del 2023. Attenzione che qui vedete le date con la fine del mese, non l'inizio perché Multicharts fa così, quindi non vi fate un po' imbrogliare dalle date, ma sono sempre maggio e ottobre. E poi ha fatto un più 125% nella ultima fase, cioè quella che è andata proprio in questo, in questa, dall'1 di ottobre del 2023 fino a maggio del 2024. Allora, guardate le due operazioni veramente interessanti che sono una e poi due. E tra le altre cose ha fatto anche questa operazione negli anni precedenti, per esempio nel bull run del 2021, ed è stata abbastanza forte, scusate che non si aggiornano come su TradingView che sono più semplici i grafici su questa piattaforma. Allora, qui per esempio si vede che ancora una volta l'ottobre-maggio del 2020, che poi è finito a maggio del 2021, è stata veramente consistente come bull, tanto è vero che abbiamo guadagnato il 433% nella precedente fase, mentre nei bear market ha perso 14% in questo caso e 15% nel bear market del 2018 circa. E, ho detto giusto ragazzi, sì, 15 e 14%, ok? Mentre ha guadagnato notevolmente, soprattutto nell'ultimo ciclo di bull run, quello da ottobre del 2020 fino a maggio del 2021. In sostanza questa strategia rientrerà long, esattamente all'inizio del prossimo mese. Quindi, inizio del prossimo mese che, in caso, avverrà appunto dopo questa candela, quindi qui, e da qui noi avremo nuovamente la freccettina long. Ora, è vero che viene da due rialzi consistenti, ma è anche vero che, anche lo scorso anno ha guadagnato anche tantissimo, bisognerà vedere se anche questa volta riuscirà a replicare questo atteggiamento di grande forza. Fatto sta che è uscita a 60.845 prezzi Bitstamp, anzi, scusate, Bitfinex in questo caso, e sembra essere, ancora una volta, corretta, perché in questo momento, a 25 giorni dalla scadenza, siamo a 57.000 dollari circa. Quindi, ancora una volta è uscita, si è protetta dalle falsi dibattiste, si è protetta dalla volatilità, e sembra addirittura di riuscire a rientrare più bassa dei prezzi di uscita. Questo sarebbe praticamente, ragazzi, un capolavoro, perché in realtà questo tipo di strategie eliminano la volatilità, ma di solito poi entrano a prezzi un po' più alti, quindi sbagliano ovviamente il prezzo di ingresso. In questo caso, neanche così è stato, ma non solo quest'anno, anche l'anno del 2022-2023 è stato così, quindi sia l'anno 2022-2023, che è uscita qui e poi è rientrata più bassa, sia l'anno 2023-2024, che adesso dobbiamo vedere dove rientrerà, se rientrerà più basso nuovamente, avrà iperperformato, sopraperformata addirittura, rispetto all'holding stesso di Bitcoin. Incredibile, è una strategia banale così. Allora, questa strategia, fra pochissimi giorni, rientrerà long. Intanto vi faccio una domanda, chi di voi la seguirà, scrivetemelo nei commenti, fatemi sapere. Nel video dove ho analizzato questa strategia, analizzo anche i pro e i contro, di questo tipo di strategie, che sono di natura saggionale, è anche vero che però, in un contesto del genere, con gli istituzionali che sono entrati sul mercato delle cripto, strategie di questo tipo assumono più valenza, perché sono maggiormente utilizzate anche agli istituzionali, soprattutto in mercato estremamente giovane, dove i retail non hanno una gran forza, e nei mercati come le cripto non hanno una gran forza e le retail, e quindi è interessante, no? Andare poi a vedere come si vanno a, diciamo, a stringere questi tipi di logiche, queste forze che si diventano un po' di natura ambivalente. Fatto sta, ragazzi, che anche sulla questione legata al trading view, qui andremo a vedere proprio un long, quindi una candelina verde, un triangolino verde, proprio al prossimo, e potremmo in effetti andare a verificare poi una cosa del genere, anzi, facciamo così, vi metto proprio qui il triangolo. Da qui saremo, di nuovo, long, questo tipo di strategia. Tenevolo in considerazione. Ora, fermo restando che queste logiche di strategie, sono, come vi dicevo, di natura settoriale, è un'altra indicazione del fatto che a ottobre prossimo potrebbe essere estremamente interessante l'ingresso long sui mercati delle cripto tra fine settembre, metà settembre, da metà settembre in poi in pratica. C'è da dire anche un'altra cosa, questa logica si sposa anche molto con i dati storici di Bitcoin che vedono un Q4, quindi un quarto trimestre molto forte dei mercati delle cripto e si sposa anche con la logica ciclica del ciclo dell'albing perché anche in un contesto del genere sembra appoggiarla in pieno anche nella questione ciclica dell'albing perché anche lì abbiamo l'attesa della famosa ultima zona di Burran prima della chiusura di questo ciclo dell'albing che è stato molto bello, molto interessante, ma meno partecipato rispetto ai precedenti e questo è molto significativo perché i retail sicuramente si sono disinnamorati di questo mercato e sono andati via e in molti si sono probabilmente un po' fatti buttare fuori dal mercato. Vedremo cosa succede poi nei prossimi mesi ma ci sarà secondo me da riflettere ampiamente anche su questo atteggiamento. Detto questo però dobbiamo anche ragionare su un difetto è veramente la cosa più comune del mondo cioè tutti si attendono questa cosa qua nessuno si attende il contrario. Ora, è vero che c'è un principio di autogenerazione di un evento nei mercati finanziari se tutti i trader e tutti gli istituzionali si aspettano quell'evento lì ovviamente nessuno andrà a vendere nessuno andrà a cercare di fare short selling a ottobre perché hanno paura si innescherà comunque una specie di principio riflessivo sui mercati che potrebbe in effetti far diventare una miccia un poco gigantesca e quindi basterebbe magari avere un breakout di un livello di resistenza che diventerebbe il lancio appunto della Burran. Però è anche vero ragazzi che effettivamente tutti, anche le pietre si aspettano questa cosa e di solito i mercati non amano questo tipo di logica cioè nel momento in cui è veramente così tanto atteso uno scenario quello scenario non è che abbia una validità così alta cioè spesso i mercati cercano di imbrogliare le carte di nascondere gli assi nella manica e cambiare le carte in tavola e potrebbe farlo di nuovo anche proprio nel mese di ottobre. Io non sono molto convinto di assistere a un crash eccetera tutto è possibile sapete nei mercati però questi tipi di atteggiamenti che abbiamo visto da marzo in poi non mi hanno dato alcun timore da questo punto di vista perché in termini di pattern di price action e analisi tecnica e ciclica non è cambiato assolutamente nulla rispetto a quello che abbiamo detto tutto nei mesi precedenti quindi resta ogni cosa che ci siamo detti identica l'unica cosa che effettivamente può un po' farmi riflettere è una anticipazione del movimento da ottobre in poi cioè se forse arriviamo a ottobre deboli magari il dubbio mi viene se invece recuperiamo forza proprio nel mese di settembre un po' spiazza tanti perché in effetti molti si aspettano un settembre negativo ne ho parlato anche io che è solitamente come storicità negativo e potrebbe in effetti essere quello l'atteggiamento che il mercato farà per cercare di spiazzare vedremo in ogni caso questo mese ragazzi e in questi 20 giorni sono incredibilmente importanti e sulla google trend se voi andate a vedere la ricerca di bitcoin e delle cripto è ai minimi storici degli ultimi anni incredibile ancora una volta nel momento più importante di tutti molti sono così annebbiati fuori dal pianeta io sono oltre 20 anni che sono sui mercati finanziari e resto sempre allibito scioccato della incredibile forza di questa logica che è disarmante ragazzi la legge dei grandi numeri è un po' demoralizzante ma anche disarmante vabbè vedremo cosa succederà secondo voi dove siamo diretti ottobre se l'email go away l'applicherete o meno fatemelo sapere nei commenti noi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao